se ne parla da settimane già sono state confezionate 5 puntate per renderlo appetibile sono stati chiamati in gioco diversi vip eppure tutto sarebbe stato messo in stand by trattasi del programma back to school che era stato annunciato come il nuovo prodotto di italia il portale davidemaggio.it sempre puntuale ed informato circa i retroscena relativi al piccolo schermo italiano assicura che lo show nonostante i preparativi e le riprese siano in stato avanzato è stato cancellato dal siamo in grado di anticiparvi che il format affidato a nicola savino è stato stoppato dai vertici mediaset stop arrivato dopo che i vertici hanno visto le puntate già realizzate e pronte ad essere trasmesse così davidemaggio.il sito aggiunge che i piani alti del biscione hanno sospeso tutto per il momento resterebbe in piedi l'ipotesi che il format visto anche il lavoro già profuso potrebbe essere rispolverato più avanti anche se non è assolutamente detto che vedrà un giorno la luce l'idea alla base di back to school è quella provocare risate nel pubblico chiamando a ripetere l'esame di quinta elementare dal 2005 tale test non è più in programma nel percorso scolastico dei giovani alunni dei personaggi noti ad aiutare i vip nell'affrontare le prove ci sono dei piccoli di l'età compresa tra i sei e